Bene, oi, oggi parlamma? Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Ancora più importante visto il momento e la situazione in cui andiamo a giocarsi questa partita. Andiamo a giù a dire non voglio voglio parlare eccoci qua ragazzi buonasera come avete capito dalla intro vi volevo parlare del mio canale telegram e gruppo gruppo telegram praticamente ci ero da un po' di tempo ma non le ho mai sponsorizzati quindi vi lascerò i link sotto in descrizione e che dire ragazzi è da un bel po' che non si fanno dei video esattamente 17 giorni e niente voglio ripartire così con il canale telegram vi lascio anche i link delle mie pagine e soprattutto il numero di cellulare perché molti di voi mi hanno contattato e mi hanno detto che non riuscite a reperire il mio numero di cellulare il mio numero di cellulare è ovunque a volte per chiedere informazioni per chiedere se ho qualche specie particolare quindi sotto in descrizione vi lascio i gruppi telegram il canale telegram e gli altri link dei canali ma soprattutto il numero di cellulare beh che dire ragazzi in realtà come dicevo prima il canale telegram i gruppi telegram ce l'avevo da un bel po' avevo messo qualche link sulle mie pagine cocorite e allevamento amatoriale ma è stato preso di mira da persone poco affidate quindi sono anche alla ricerca di qualche moderatore soprattutto per quando postano sui nostri canali qualcosa di non proprio è vero che trattiamo uccelli ma volatili dai non diciamo altre cose e quindi niente ragazzi vi lascio con questo vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace se il video vi è piaciuto ma anche un non mi piace tanto come diciamo sempre a youtube non interessa a youtube interessa l'interazione lasciata non il mi piace o non mi piace quindi che dirvi spero di fare al più presto ci sono parecchi video in programma e vi farò vedere che sto studiando delle cose particolari su dei video infatti come noterete qui intorno mi girano ai rollapogranini di carta del simbolo di telegram e ci stiamo studiando un bel po' di cose per fare video e per migliorarci soprattutto nel montaggio quindi ragazzi se qualcuno mi vuole seguire nei canali telegram vi lascio il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video non so quando uscirà ma vi dico che sto studiando a dei nuovi video ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao